Ciao amici di Napolità, benvenuti dal vostro Sasapengue, oggi parliamo di un paio di argomenti, ovviamente la situazione Osimen e della situazione di Kimmo, perché sono uscite altre notizie che poi io vi ho anticipato, però ne parliamo, ne parliamo. Stiamo leggendo un po' quello che succede sulla questione Kim, sulla questione Osimen, ormai questi sono i due calciatori che spostano un po' tutto quello che potrebbe essere il mercato del Napoli e può essere il futuro del Napoli, non tanto per Kim, perché ovviamente parliamo di un giocatore fantastico, Kim è un calciatore che sicuramente avrà una carriera splendida, però secondo me quello che sposta più gli equilibri in totale è Vittor Osimen. Leggiamo un po' in giro che praticamente la richiesta del giocatore non è proprio simile all'offerta del Napoli, però il Napoli ha cercato e sta cercando, arrivano notifiche, vediamo se è qualcosa su Osimen, no, non è niente su Osimen, vi stavo dicendo che il Napoli cerca, ha provato e proverà ad offrire al giocatore nigeriano un contratto importante, ricordiamo che lui scade 2025, quindi 2025 il contratto di Victor, però il Napoli vuole arrivare a 2028, quindi 2028 e vorrebbe alzare lo stipendio da 4 milioni e mezzo che prende ora su per giù il nigeriano, vuole spingersi fino a 7 milioni, 7 milioni però che sono 6 milioni e mezzo di base fissa e 500 mila euro di bonus, poi facilmente raggiungibili e sbloccabili ovviamente con qualche trofeo o con altre cose. Lì ancora sembra dura la trattativa perché ovviamente le richieste, le offerte che arrivano da fuori potrebbero essere molto più importanti perché per farvi un esempio semplice, no, Koulibaly va in Arabia, lo so che forse voi dite, lì sono altre cifre, va benissimo, allora lasciamo stare Koulibaly che va in Arabia, ho preso uno spunto per dire che Koulibaly sta andando in Arabia, in Arabia, calciatori che arrivano in Premier League prendono minimo 10 milioni di ingaggio, stiamo parlando di cifre nette, quindi il Napoli con 7 milioni netti arriverebbe ovviamente a 14 milioni lordi, invece lì si va con 10 milioni netti e 20 milioni lordi, quindi parliamo di cifre inavvicinabili ma soprattutto non inavvicinabili perché il Napoli non può spendere oppure non riesce ad offrire al calciatore, sono cifre che il Napoli non vuole passare perché sappiamo che il tetto ingaggio del Napoli oramai è fermo a 3 milioni e mezzo però ovviamente per un calciatore come Victor si fa uno strappo alla regola, ma si fa uno strappo alla regola perché? Perché anche gli altri calciatori della squadra non andrebbero in difficoltà, non avrebbero nulla da dire alla proprietà perché parliamoci chiaro ragazzi, Victor è un giocatore che determina, Victor è un attaccante che ti può far fare il salto di qualità e avere uno come Victor o si mette nella squadra vuol dire anche portare un quid in più a tutto il gruppo e nessuno può mai dire niente, allora è quella la direzione che sta intraprendendo il Napoli, la settimana prossima ci saranno altri incontri, ad oggi stiamo parlando di cifre che si possono raggiungere magari uno sforzo da un lato, uno sforzo da un altro e proveremo e capiremo se alla fine riuscirà il nigeriano. Le notifiche, le notifiche, ragazzi ricordatevi sempre di mettere un like e di iscrivervi al canale YouTube, questa è la cosa importante, io ho sempre le notifiche accessi che può arrivare all'improvviso qualche notizia importante, per esempio che Victor ha firmato fino al 2028 e io ve la devo dare subito, per esempio mentre sto facendo sto video, se arrivo ve la devo dare. Vi stavo dicendo, quindi questa è la situazione su Victor Rosiman. Per quanto riguarda invece Kim, oggi esce la notizia ufficiale attraverso un giornale che è un po' quella che vi ho detto in live, che il Napoli ha cercato prima di tutto di togliere durante la stagione quella clausola, Kim Min-je, però non ci è riuscito. E poi, appena terminato il campionato, c'è stato un incontro importante tra l'entourage del calciatore coreano e il Napoli, ovviamente Giavelli e De La Rentis, per cercare di fare una bozza di rinnovo. Quindi cosa vuol dire? Il Napoli ha tentato un approccio per dire guarda Kim, qui noi ti amiamo, ti vogliamo, i tifosi ti amano, noi ti vogliamo perché abbiamo puntato forte su di te, se dovessi decidere di non andare in queste squadre che ovviamente ti stanno facendo la corte, perché ragazzi, parliamoci chiaro, ad oggi il Bayern Monaco è fortissimo sul calciatore, è una proprietà che quando si muove, si muove forte, è difficile dirgli di no. Però il Napoli ha fatto capire al calciatore che è interessata a tenerlo e anche lì potrebbe esserci e poteva esserci, o potrebbe esserci, perché ragazzi, ancora non è niente di fatto, uno strappo alla regola, perché il Napoli, come Victor Rosiman, con Kim ha pensato di dargli qualcosina in più. Ovviamente non si arriva alla cifra di Victor Rosiman, però ovviamente la società voleva la permanenza del giocatore coreano, perché è un giocatore che ti dà tanto. Ti ha dato tanto, tutti i profili che ad oggi sembrano vicini al Napoli, oppure per dirla più precisamente, che il Napoli sta assondando, sono calciatori che sono forti, sono bravissimi, che però ovviamente ognuno di loro ha qualcosina in meno rispetto a Kim. Kim che però, ovviamente arrivato qui, io non posso mai e poi mai dimenticare. Quello striscione che ovviamente fu fatto in un periodo particolare, c'era un po' di sconforto generale, però diciamo per farvi capire che quando arrivò Kim, anche lì c'era Titubanza, anche lì non c'era la certezza che Kim fosse questo Kim. E poi, ragazzi, non ci dimentichiamo, che doveva sostituire un certo Calidu Kulibali. Quindi, se proprio va via, se lui poi alla fine accetta, ecco, Bayern Monaco, ci sono anche altre squadre che vorrebbero il calciatore, stiamo sereni perché non è sicuro che ne troviamo uno uguale a lui, però probabilmente potremmo trovare uno forte quanto lui e dobbiamo stare tranquilli. Io penso sempre questo. Victor è un calciatore che ti sposta, Victor è un calciatore che ti può determinare, Victor è uno che ti mette in subbuglio tutto il reparto difensivo della squadra avversaria e ti dà tantissime fasi di gioco, ti dà tantissime possibilità di poter andare a fare un gioco propositivo e quindi è un calciatore che io terrei a tutti i costi, ovviamente se è possibile, questa è la cosa che dico io. Per quanto riguarda Kim, io, diciamo, se non riesco proprio a trattenerlo, mi dispiace, però vado avanti. Quindi, in poche parole, andiamo tutto su Victor, se dobbiamo scegliere, per esempio, tra Victor e Kim, io scelgo sempre Victor, se dobbiamo fare uno giù dalla torre e uno sopra, mi tengo sempre Victor e poi, ripeto, se riusciamo a tenerci pure Kim, male non facciamo. E' questo anche la cosa che mi va di dirvi, però aspettiamo un po', siamo ovviamente in un momento di stallo, una fase di stallo, la clausola si attiva, cioè la pagabilità della clausola si attiva dal primo al 15 luglio, quindi abbiamo ancora qualche giorno per capire, quindi per riflettere, poi dal primo luglio avremo sicuramente delle conferme in più su Kim. Per quanto riguarda Victor, invece, aspettiamo gli incontri sicuramente che arriveranno spesso, nel frattempo Aurelio De Laurentiis con serenità a mare a farsi un bel bagno, tranquillo e sereno, a differenza di quello che scrivono un po' tutti, no? Sta succedendo un casino a Napoli, non si capisce niente, una baraonda, io l'ho visto tranquillo. Poi non lo so. Ragazzi, ricordatevi sempre di iscrivervi qui al canale, per chi non è iscritto è completamente pazzo, attivate la campanella delle notifiche per non perdere nessun contenuto e ricordatevi sempre di lasciare un like. Un bacio e un abbraccio da Sasà e sempre Forza Napoli. Ciao!